ben tornati alla vostra intervista doppia buongiorno salve prima di continuare c'è un fuori programma me lo permettete arriva la nostra valletta oggi Roberta grazie allora lui non vede niente visto che oggi lo dico io faccio gli auguri in diretta a Domenico Beccaria qui c'è il biglietto d'auguri spero si legga adesso però lo deve vedere lui e capirete poi perché ecco qua grazie grazie Beccaria come Ventura ma che gentili però adesso scapite perché come Ventura questo qui è Giampi che tenero no dietro c'è il tuo Torino FC Meku grazie grazie siccome Ventura fa tutte le conferenze stampa fa le conferenze stampa l'avete visto con le mascotte sempre lì davanti Meku come Ventura perfetto allora vi lo mettiamo qua con noi oggi grazie Carlo partiamo con le domande ti ha sorpreso la sconfitta con l'Udinese? no non mi ha sorpreso perché è un risultato che alla vigilia ci poteva anche stare spiace per come è maturato perché al di là del fatto che abbiamo regalato un tempo all'Udinese l'arbitro ha regalato tutto il resto e sottoscrivo in questo caso quello che ha detto poco fa Meku lo dice anche il giornale Oggi viva Dio che ogni tanto dicono anche qualcosa a nostro favore insomma Toro è derubato però dobbiamo ammettere che abbiamo regalato un tempo all'Udinese e il Toro non ha giocato come il suo solito quindi ahimè una battuta d'arresto il Torino si è schierato a Udine con due soli centrocampisti mentre i padroni di casa ne avevano cinque questo può aver influito sull'andamento della partita? sì io mi aspettavo che mettesse dall'inizio Vives e rinunciando a Santana quindi coprendo di più però è andata così comunque in questo caso non sono stato d'accordo guarda facciamo rispondere lui l'hanno capito tutti che con due centrocampisti ci fanno un così e quindi c'è solo più Giampiero che non l'ha capita i falli su Santana e Glick avvenuti in area potevano essere puniti con il rigore ma l'arbitro ha deciso diversamente questo ha condizionato il risultato? sì assolutamente sì e casualmente gli arbitri decidono sempre diversamente ci piacerebbe che una volta si sbagliassero tra virgolette e ci dessero quello che ci spetta sì io onestamente domenica scorsa quando è stato decretato quel rigore a favore del Milan ho detto vittoria del Milan sconfitta del Toro a Udine dentro di me e di fatti si è avverato anche Diop a Udine ha trovato un po' di spazio credi che sia pronto per giocare in Serie A con maggiore continuità? sì sì assolutamente quel ragazzo ha dei numeri strepitosi e in questi casi la A, la B, la C non fanno differenza Diop è un valore che noi dobbiamo ovviamente far maturare pian piano ma io non vedo l'ora che arrivino i 40 punti proprio per vedere all'opera con serenità questi ragazzi che sono e dovrebbero essere il nostro futuro assolutamente è ora di vederli in campo un po' di più la sfortuna è che non si gioca in 12 e la sfortuna è che il misto ha quei due o tre pallini fissi che non toglie neanche quando sono con tutte e due le gambe spezzate e quindi visto che non si può giocare in 12 c'è altre squadre che giocano in 12 non noi e di conseguenza ah vabbè volevo aggiungerlo io meno male l'ha detto lui dal terzo ultimo posto ci sono sette punti ma le distanze in fondo alla classifica si sono un po' ridotte sei preoccupato? certo che sono preoccupato io sarò preoccupato fino a quando non saremo matematicamente salvi da quel puntino avanti va bene tutto sì io non vorrei che nessuno dei nostri giocatori soprattutto pensasse di aver già raggiunto l'obiettivo e giocasse con sufficienza non abbiamo ancora fatto assolutamente nulla basta perdere un'altra partita e averli tutti addosso quindi è ovvia la preoccupazione preoccupazione che loro non devono avere testa bassa, pedalare, nessuna illusione non siete né dei Maradona né dei Messi quindi impegnatevi allo spasimo sempre all'andata con l'Atalanta fu goleada che partita ti aspetti? mi aspetto una partita che ricalchi nel risultato non nell'andazzo della partita quella dell'andata non ci dimentichiamo che alla fine del primo tempo l'Atalanta poteva aver segnato 3-4 gol e ne ha segnato solo uno io ho paura che vengano qui un po' col dente avvelenato un po' con legittime necessità di classifica che quindi sia una partita che dovremmo giocare col coltello fra i denti fino al 99esimo non solo al 90esimo e quindi scuore granata fino alla fine ecco non sarà come la partita dell'andata perché l'Atalanta verrà qui davvero col coltello tra i denti con l'Antuono davanti ai tifosi del Torino vuole dimostrare che il suo allontanamento dal Torino non è frutto della sua incapacità tutt'altro lui vuole anche Bianchi all'Atalanta spero che Rolando giochi e faccia questa volta una doppietta per noi almeno riusciamo a ricucire un po' tutte le cose speriamo bene il tuo pronostico per Torino-Atalanta il Torino deve fare la partita e deve vincerla perché se andiamo avanti con il punticino e poi ne perdi una che ci può stare perdere non è la normalità e perdi tre punti in un colpo solo non andiamo lontano questi qua in casa sono pariti da vincere inutile nascondersi dietro a un dito pronostico uno fisso mi auguro che giochi bianchi mi auguro che segni così festeggia al meglio il suo compleanno che è venerdì 15 e che con ogni probabilità sarà l'ultimo compleanno per lui in maglia granata quindi tanti auguri a lui tanti auguri a noi una bella doppietta e siamo tutti felici abbiamo finito grazie per Giampi diventerà ospite fisso della trasmissione me lo porto ogni volta in realtà si chiama Meco ah già giusto Meco come ventura scusa Giampi in ogni conferenza stampa lui ce l'ha lì e poi ce l'avrai anche tu Giampi abbiamo qualcosa in comune qui incominciano grazie a testa stiamo diventando non vorrei metterla nella politica diventiamo come camicia io non faccio il culo però ventura e Meco come Monti e Bersani io faccio la camicia ventura e Meco come Monti e Bersani agghiacciante mamma mia ciao grazie a tutti